È stata una partita difficile come ci aspettavamo contro una squadra molto in forma. Nel primo tempo sicuramente siamo stati in partita, abbiamo combattuto colpo su colpo e poi nel secondo tempo sicuramente siamo calati, siamo stati imperfetti. Per portare a casa dei punti contro questi tipi di squadre bisogna fare di più e meglio. L'impegno c'è stato, l'atteggiamento c'è stato, però dovevamo fare sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto. Sì, ora guardiamo il futuro, c'è la sosta, ricarichiamo le pile per chi può. Molti ragazzi andranno a giocare ancora molte partite, però cerchiamo di lavorare su quelli che sono i nostri difetti e sfruttare bene questo tempo perché abbiamo di fronte un percorso importante ancora da fare tutti insieme. È stato un gioco difficile, lo conosciamo prima, la Quarentena è una squadra molto forte questa season e nel fine bisogna essere più concentrati nella difesa, ma hanno fatto molta pressione per noi e spero che la prossima volta possiamo concedere due gol e prendere un punto o tre punti con noi. È stata una partita difficile perché la Fiorentina è una grande squadra, ci ha messo un po' in difficoltà quella loro pressione mentre noi facevamo il nostro gioco. Spero che la prossima volta saremo più attenti in fase difensiva, magari concedendo un gol in meno in modo tale che possiamo conquistare un punto o anche tre punti. Sì, sono contento, finalmente scorrò il mio primo gol in Serie A, ma ho spero più di tre punti, ma nel fine sono contento e dobbiamo continuare a combattere come un team, solo in questo modo si può prendere punti. Sono contento per il mio primo gol in Serie A, comunque finalmente è arrivato, anche se sarei stato più felice se oggi avessimo conquistato tre punti. In ogni caso penso che dobbiamo continuare a restare uniti, a combattere e giocare da squadra per portare a casa altri punti e vincere altre partite. Sì, credo che lavoreremo con la squadra, anche con la defensa. Per me bisogna fare più volte, io ero lungo, neanche settimane, e per fare queste due settimane per lavorare. Dopo abbiamo anche dei giocatori, ma siamo pronti. Abbiamo chiesto come si alleneranno, su cosa lavoreranno adesso in questi 14 giorni di pausa, lui ci ha parlato che in particolare per se stesso farà degli esercizi di corsa, perché comunque non ha giocato per quasi due mesi e deve recuperare ancora da questo punto di vista, poi lavoreranno ancora perché gli aspettano altre partite difficili e bisogna lavorare per continuare a conquistare punti. Thank you.